un saluto a tutti anche oggi bentornati sul canale homo tenasci anime per la pillola anime del giorno oggi andiamo ad analizzare un anime che sicuramente non è fresco anzi abbastanza datato 2014 e che non conoscevo l'avevo messo nella lista delle cose da vedere ma mi è stato caldamente sollecitato dal mio amico luca che per chi di voi ci segue alias brunga 77 perché insomma è addentro alle politiche del canale ormai avrà imparato a conoscere in quanto amico nonché moderatore assieme ad altri valorosissimi moderatori di quello che è il canale il tutto giusto per contestualizzarlo delle informazioni sempre ovviamente sapete prese stampate da cartellette in maniera tale che possano essere il più precise possibile anche se questa volta c'è una piccola svista che è un petit cadeau diciamo che voglio regalarvi come omaggio perché ci sono delle inesattezze a quanto pare anche da quello che ho trovato sancito che ho stampato direttamente su carta ma andiamo per ordine l'anime abbiamo detto black bullet viene tratto da una light novel autore Shiden Kanzaki light novel in questo caso prima edizione 10 luglio 2011 fino al 2014 viene scritto queste parole come volumi sette completa questo è quello che riporta wikipedia dalla light novel come sapete la deriva è quella classica è un manga il manga tankobone cinque volumi anche questo direttamente scritto e poi quello che è il nostro core business insomma la serie tv anime un classico streaming su crancirola al momento sottotitolata 13 episodi durata 24 minuti quella canonica niente di particolare io già qua vorrei soffermarmi però su un piccolo punto perché ci sono delle inesattezze allora la serie già intuite in questo caso un canonico 13 minuti su un'opera manga che deriva da una light novel vi fa intuire che non è finita diciamo che un primo arco temporale è quello che potremmo definire come tale ma c'è ancora tantissima carne al fuoco tornando indietro poco fa invece la registrazione vi ho detto che i volumi sono sette della light novel e i tankobone sono quattro in realtà c'è un errore è sempre questo utente luca che mi ha dato una mano ha fatto delle verifiche e pare che il manga in realtà sia composto al momento della registrazione da ben cinque volumi quindi uno in più di quello che è sottolineato dalla versione di wikipedia e la light novel forse in maniera un po' erronea è stata indicata come sette volumi completa in realtà è un sette volumi ferma barra abbandonata nel senso che non si è andate oltre per cui il problema appunto delle realizzazioni in questo caso dell'anime che è stato fatto sempre nel 2014 quindi contestualmente l'uscita della light novel e praticamente quasi contestualmente dell'ultima parte scusate della novel all'uscita del manga ebbene arriva fino a quel punto proprio perché pare non ci sia più un materiale da sviluppare quindi non possiamo tacciarla come opera incompleta per non volere ma per non potere quindi proprio per mancanza di materiale detto questo se noi analizziamo solo esclusivamente ed è quello che faremo l'opera in questione tramite gli occhi ovviamente dell'anime beh posso dirvi che ci sono delle cose che mi hanno veramente colpito e mi sono piaciute in primis di sicuro fra queste non mettiamo l'originalità non è un'opera che brilla in tal senso come poteva essere un death note all'uscita dove nessuno poteva dire non ho mai visto nulla di simile non c'è l'effetto wow sono delle cose che prese a spizziche bocconi da altre opere si sono già viste ma devo dire che contestualizzati in quest'opera sono state mescolate in maniera sapiente e molto gradevole prima ancora della di quella che praticamente sarebbe la storia io vorrei fare un plauso alla colonna sonora alla opening che per quanto mi riguarda è una delle opening più belle elettriche e galvanizzanti che siano mai state fatte è veramente stupenda non posso che consigliarla perché veramente al fulmicotone piena di ritmo piena di azione quindi sicuramente una bellissima opening e questo poi lo dimostrano anche i risultati che potete trovare su youtube andandolo a cercare vedere il numero delle visual che in moltissimi siti viene ospitata e che raggiunge detto questo tralasciando il fattore opening la storia la storia abbastanza breve personaggi principali tecnicamente quattro anche in questo caso gli ho segnati per non dire delle oscenità non sbagliare rentaro satomi il protagonista maschile principale enju hayara che tra l'altro a me piace da impazzire la sua partner nonché aiutante kisara tendo e tina sprout in realtà ce ne sono altri ma questo è proprio il nucleo fondamentale almeno ripeto di questo primo blocco di 13 episodi cosa dire dell'anime allora tokyo ovviamente uno dei posti come sapete più pari svantaggiati del multiverso per quanto riguarda gli attacchi di ogni tipo di creature ebbene viene casualmente anche in questo caso presa di mire d'assalto da mostri perché tali devono essere classificati vista la grandezza vista la violenza visto l'aspetto che può essere quello vagamente insettoide o anche di fantasia insomma dei mostri dei kaiju veri e propri come si possono immaginare hanno un nome specifico vengono chiamati gastrea e queste creature oltre che arrecare danni ingenti e come tradizione classica seminare paura terrore e soprattutto morte a manciate abbondanti hanno la capacità di infettare gli esseri umani una volta che sono infettati con un virus il cui il virus per il nome del virus scusate è lo stesso della creatura che li inietta quindi anche il virus ha il nome di gastrea ebbene questo virus sempre nella miglior tradizione mutagenica che abbiamo imparato ad apprezzare è in grado una volta che è ospitato nel corpo umano di diffondersi a velocità folle spropositata di riscrivere l'RNA messaggero il dna e quindi tramutare quello che un normale essere umano in un'altra bizzarria tipo il gastrea ospite che ha inoculato il virus quindi la replicazione completamente assessuale di queste creature di questi gastrea ma semplicemente ne nascono di nuovi dopo aver infettato degli ospiti e anche qua capite non c'è assolutamente niente di nuovo in tal senso quindi abbiamo il genere umano battaglia da combattere per evitare l'estinzione di questi mostri di dimensioni gargantuesche cioè da piccoli dove piccoli comunque vuol dire la taglia di una media berlina fino a creature altre alte 20 25 30 metri dei palazzi interi semoventi che arrecano distruzione su ampia scala alcuni degli infettati ovviamente può capitare purtroppo è capitato che le persone infettate fossero anche delle delle madri in dolce attesa quindi ancora delle partorienti ebbene anche in questo caso il feto non viene risparmiato ma per un motivo del tutto ignoto il feto non viene completamente eroso da quello che il virus quindi il bambino il feto appunto che ancora non è nato non viene consumato diventa un mostro ma acquisisce il potere latente uno dei poteri latenti dei gastrea in questo caso è la rigenerazione cellulare rapidissima assieme delle altre peculiarità sappiamo che nascono settimini questo viene detto verso la terza o qualt'ultima puntata della della prima serie e assumono il nome di bambini maledetti in realtà bambine perché solo esclusivamente bambine nascono in questo caso da persone che hanno ricevuto da madre che hanno ricevuto l'infezione quindi solo il sesso femminile è quello che ne esce fra virgolette vittorioso vittorioso poi non è perché in realtà queste bambine con questi super poteri hanno comunque gli occhi rossi e sono discriminate per cui abbiamo questa questa generazione nuova di tocchiensi poi comunque una cosa che è successa non solo appunto a tokyo ma in tutto il mondo devono affrontare il problema di un eventuale ritorno di questa cama di questa calamità che sono i gastrea quindi le creature del virus medesimo e di queste bambine che tutti quanti disprezzano per un profondo e oserei dire atavico atavico no perché in realtà solo di una generazione prima comunque odio razziale perché come sapete si ha sempre paura del diverso ebbene enjuaiara è una è l'aiutante del nostro renta rossatomi il quale lavora per un'agenzia che si occupa appunto di sterminare di cercare di placare quelli che sono i casi di infezione conclamati dal virus gastrea lei è una di queste bambine che sono afflitte appunto da questa malattia sappiamo che è tenuta sotto controllo finché la malattia non prevarica il 50 per cento di infezione dopodiché non è più controllabile neanche in queste bambine e quindi purtroppo andrebbero eliminate perché la loro sorte sarebbe segnata diventerebbero anch'esse dei gastrea quindi dei mostri in tutti i sensi pertanto sono veloci si possono rigenerare sono persone esattamente come noi con gli stessi desideri pulsioni di esseri umani però con questi superpoteri ma attenzione il virus appunto al loro interno radicato nel loro organismo non deve mai superare questa soglia del 50 per cento quindi anche nelle battaglie devono tentare di non farsi ferire o incappare nuovamente in punture piuttosto che morsi dei gastrea per evitare che un'ulteriore quantità di veleno e quindi poi di virus le vengano inoculate superino questa fase del 50 per cento e anche si diventano dei mostri a tutto tondo anime shonen di combattimento il rapporto che c'è fra rentaro ed enju secondo me è meraviglioso io mi sono completamente innamorato del personaggio di enju ho già guardato delle action figure che avrei intenzione di comprare anche se devo dire che ce ne sono poche al momento per poche intendo ce ne sono solo esclusivamente tre e una di queste ha già raggiunto una cifra abbastanza importante siamo sui 190 euro indipendentemente dal costo abbiamo il problema che è costruita da una casa che è risaputo il 70 per cento produce opere molto molto fragili quindi anche fare una scommessa su un'importazione ecco serve un po un gioco d'azzardo però ci voglio ci voglio pensare su detto questo per quanto mi concerne ripeto è un bell'anime va visto sappiate che arriva in fondo il non finisce o meglio finisce il primo arco ma rimangono aperte una serie di porte portoni direttamente ci sono migliaia di cose che non si sanno abbiamo ripeto molte tematiche già viste abbiamo il ruolo del cattivo iniziale che poi in realtà sembra che cattivo non sia e si allea coi buoni abbiamo il buono o in questo caso qua la ragazza che fa le panni scusate le vesti del buono chisaratendo che purtroppo invece verso la fine muta e potrebbe diventare anche se non lo sapremo mai se non ci sarà una seconda serie il personaggio fra virgolette cattivo quindi i ruoli che si ribaltano anche questa non è una novità nel mondo degli anime e anche qui la troviamo contestualizzata quindi ripeto non c'è l'effetto wow ma come sono le animazioni i personaggi la musica e ripeto la intro non vorrei calcare molto su questo ma è sicuramente una parte fondamentale che vi galvanizzerà ebbene il tutto fa sì che secondo me sia un bell'anime mi piacerebbe sapere dove l'autore va a parare credo che piacerebbe a tutti sia chi segue gli anime chi segue il manga soprattutto la light novel che ripeto pare ferma dal 2014 in quanto ci sia stato l'autore proprio sia incartato in tal senso io spero un giorno potremo saperne di più ma anche presa come opera singola one shot devo dire dategli comunque sicuramente il giusto tempo il giusto spazio perché sono convinto che possa entrare fra le opere che sicuramente avete apprezzato io indipendentemente da questo come sempre vi ringrazio vi saluto le solite cose like social iscrivetevi al canale attivando la campanella se ritenete che le mie opere siano di vostro gradimento e indipendentemente da tutto mai smettere di guardare anime e ovviamente di vivere le vostre passioni un saluto a tutti da simone di omo tenasci anime matane